Oggi prenderei spunto da un commento scritto sotto uno dei miei video da una signora e dice i messaggi del dottor Cionci parlano da soli, a me personalmente fanno pensare solo a una certa disperazione tutti dietro a Cionci come pecore attenti a chi è il buon pastore Ora, questa storia della disperazione francamente mi lascia stupito perché Codice Ratzinger è stato il secondo libro più letto per le classifiche di Mondatori e Rizzoli è stato inserito dal Corriere della Sera e dal Sole 24 Ore fra i 10 libri più letti in Italia ha venduto 18.000 copie, è stato tradotto in 4 lingue, ne sta per uscire una quinta il polacco, quindi non ho capito esattamente per quale motivo dovrei essere disperato forse questi audio messaggi inviati agli intellettuali cattolici, diciamo, non ricevendo risposta potrebbero far supporre che io sia disperato francamente, se queste persone interpellate non mi rispondono diciamo, mi dispiace unicamente per tutti i milioni di persone che ci andranno di mezzo ma, diciamo, io mi sento a posto con la mia coscienza ho scelto la formula dell'audio messaggio perché la lettera aperta sembra che per sua definizione debba rimanere senza risposta adesso c'è questa moda di non rispondere no, forse l'ha inaugurata lo stesso Papa Francesco non rispondendo ai dubbi dei cardinali nell'Ottocento ricordo la figura di Felice Cavallotti che era un giornalista, un polemista e un poeta molto bravo che addirittura si sfidò a duello con il Conte Macola direttore di un giornale di Venezia per una questione che avevano affrontato sui giornali ora, io non pretendo che i miei interlocutori vengano armati di fioretto la mattina a Villa Borghese alle 5 con i loro padrini chiaramente no però il fatto che non rispondano diciamo, non mette in difficoltà me mette in difficoltà chi non risponde perché chiaramente poi diventa un imbarazzato silenzio cioè questa tecnica della terra bruciata può funzionare con i pesci piccoli allora non ti calcolo, non ti considero e quindi ti lascio nel nulla dal quale provieni ma uno che ha venduto 18.000 copie di un libro che scrive sui giornali nazionali italiani ignorare un suo cordiale appello si trasforma da tecnica della terra bruciata in tecnica dell'imbarazzato silenzio che non è molto funzionale comunque ognuno è libero di fare le proprie scelte ci mancherebbe altro il senso di questo audio di oggi è un ringraziamento cordialissimo e sentitissimo alle persone che hanno organizzato fino ad oggi 36 conferenze su codice Ratzinger in tutta Italia da Trieste fino a Trapani Trapani non è ancora avvenuta è programmata per il 12 maggio ma diciamo da Trieste fino alla Sicilia abbiamo coperto quasi tutta Italia la cosa straordinaria è che queste 36 conferenze sono state organizzate dai cittadini dai lettori, dai fedeli senza che né l'autore né l'editore si fossero mai proposti ve ne elenco alcune ci sono alcune città che mi hanno ospitato anche per tre volte di seguito Arezzo, Asti, Asti, Asti Bologna, Bologna, Bologna Brescia, Brescia Catania Como, Cosenza Grosseto Gubbio Frosinone Livorno Milano 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 Ortona Padova Perugia Pisa Pordenone Pordenone Rimini Roma Salsano Siena Torino Torino 2 Tradate Trapani Trieste Udine Verona Spero di non averne trascurata nessuna Diciamo potrete avere contezza di questi eventi nelle locandine che sono state raccolte in un puzzle nella foto di testata di questo video Devo dire che mi sono sentito particolarmente onorato di conoscere gli organizzatori di queste conferenze che si sono autotassati per mettermi a disposizione Una sala conferenze in modo che io potessi informare migliaia di persone di quello che definisco non la presentazione di un libro e tantomeno la presentazione di un libro di Andrea Cionci La conferenza sul codice Ratzinger è la condivisione di un segreto di un piano meraviglioso di salvezza preparato dal vicario Gesù Cristo Benedetto XVI e dal suo predecessore Papa Giovanni Paolo II Grazie a queste persone abbiamo potuto informare deviso migliaia e migliaia di persone che poi alla fine delle conferenze hanno potuto interloquire, fare domande, porre anche delle obiezioni sensate In un paio di casi ci sono stati dei disturbatori che hanno creato un po' di maretta ma poi la situazione è rientrata Ripeto, chiunque voglia porre delle obiezioni, delle contestazioni, facendole chiaramente nei modi e nelle misure dell'urbanità è benvenuto Anzi se ci sono queste obiezioni mi fa molto piacere perché mi servono per fare la punta alla matita, come si suol dire Voi conoscete già l'effetto Ratzinger, io devo ringraziare moltissimo i contestatori e persino gli odiatori perché mi hanno fornito degli elementi di riflessione ulteriore Che hanno poi portato alla luce altri elementi, altre questioni Ricorderò sempre con affetto un tale Marco che su Youtube insultandomi mi fece conoscere il canone 335 Il canone fondamentale perché io avevo visto solamente il canone 412 Il canone fondamentale che ci fa capire come la sede apostolica possa essere sia vacante che impedita E che non ci sono, non sono previste altre opzioni Un grazie particolare all'amico Diego Fusaro Forse l'unico intellettuale italiano di fama che ha raccolto i risultati della mia inchiesta Abbracciandoli in modo dichiarato Con il quale ho fatto almeno 4-5 se non più presentazioni congiunte Perché lui ha pubblicato questo volume, La fine del cristianesimo Un volume prezioso Perché offre un contesto storico, sociale, culturale, filosofico Per quel fenomeno che lui definisce l'evaporazione del cristianesimo Ora, attingendo a questa sua felice immagine, felice in senso semantico Io ho parlato invece di una distillazione del cristianesimo Perché questi vapori del cristianesimo che si disperdono nell'aria Una parte viene convogliata da una serpentina La serpentina del logos, potremmo dire la serpentina del codice Ratzinger E condensano qualche goccia di olio essenziale di cristianesimo Un olio profumatissimo Che sa di mirra, potremmo dire, e di nardo Per utilizzare delle immagini bibliche E che appunto riguarda quel piccolo resto Inteso in senso lato, di persone, di fedeli Che hanno capito Che il Papa è sempre rimasto Papa Benedetto Hanno capito cosa lui ha organizzato Per salvaguardare e difendere la Chiesa Per purificarla soprattutto E che si sono resi protagonisti di un evento Di un appuntamento millenario Quindi io oggi lancio questo invito Oggi voglio dare un input nel senso dell'autopromozione Anzi, nel senso della promozione Dello svelamento di questo segreto Invitando chi vuole A contattarmi all'email codice Ratzinger Chiocciololibero.it Nel caso volesse organizzare delle conferenze In giro per l'Italia È facile, non è difficile Se qualcuno poi vuole coinvolgere anche l'amico Diego Fusano Sarò lieto di farmi l'atore di questi messaggi È molto importante accendere dei focolai in tutta Italia Anche per una sola questione simbolica Anche per una sola questione simbolica Al di là di quelle migliaia di persone Che vengono informate direttamente E che possono farsi chiarire dei dubbi In modo vis-à-vis Direttamente È simbolico che in tutta Italia Si riescano ad accendere questi focolai di verità È molto importante Devo dire che non ci sono state grosse difficoltà Per trovare le sale Anche se qualche volta Quella sala è della chiesa Quella sala appartiene ai frati Quell'albergo è di proprietà della chiesa Soprattutto nel Lazio E lì ci sono un po' di questioni Ma per il resto io non ho mai avuto Non ho mai avuto grossi problemi Sono conferenze E qui non vi spaventate Che durano dalle 4 alle 5 ore Dico non vi spaventate Perché tutte le persone che hanno partecipato Fino ad oggi Vi potranno riferire che si rimane ipnotizzati Quasi Dall'interesse Ma non per merito del sottoscritto Ma perché L'argomento è talmente ampio Vario Stimolante Che è un vero Massaggio per le cellule cerebrali E quindi le persone Sono sempre rimaste Contentissime Soddisfattissime Affascinatissime Da questa materia Voglio ricordarvi I prossimi appuntamenti Che saranno Il 12 maggio Venerdì A Bologna Osteria Grande Castel San Pietro Terme Alle ore 17.30 Brescia Sabato 13 maggio Ore 16 Via Sant'Antonio 16 Padova Domenica 14 Ore 15 Ponte San Nicolò Hotel Marconi Troverete tutti i dettagli Sul mio gruppo Telegram Andrea Cionci Codice Ratzinger Su Twitter C'è tutto sempre Cionci Andrea Su Facebook Nel caso Non riusciste a reperire Queste informazioni Scrivetemi sempre All'email dell'inchiesta Codice Ratzinger Chiocciolibro.it Poi più avanti Ci sono due appuntamenti Interessanti Si sbarca in Sicilia Terra Dove Questa Magna Questio È stata per la prima volta Sollevata da Don Alessandro Minutella A Trapani Museo Pepoli Sala Convegni Venerdì 19 maggio 2023 Ore 17.30 Sabato 27 maggio Signore e signori Sarò a Roma Con due conferenze Una alle ore 10 E la seconda del pomeriggio Alle ore 15 Mi servirà un bello Zabbaione la mattina Per essere corroborato Per queste due conferenze Presso l'Hotel St. John Via Matteo Boiardo 30 Costante di queste presentazioni È l'utilità di prenotarsi Di solito ci sono i recapiti Dove prenotarsi Magari per non rimanere in piedi Gli ingressi sono sempre a offerta libera Sono sempre a offerta libera E quindi sarà molto importante Anche la Soprattutto la conferenza del 27 Le conferenze del 27 a Roma Vicino al Colosseo A pochi passi Dalla fermata metropolitana Della metropolitana Manzoni Quindi colgo l'occasione Per ringraziare Tutti coloro che fino ad oggi Hanno organizzato queste conferenze Quelle che si stanno per svolgere E quelli che le organizzeranno in futuro Un grazie sempre ai miei Carissimi collaboratori personali Ai miei montatori, traduttori, assistenti Divulgatori Che ricordo sempre con grande affetto Vi aspetto ai prossimi appuntamenti Grazie a tutti E buona giornata dal vostro Andrea Cionci